Ciao! Video Outfit. Allora, oggi ho la collana, si vede? Oggi ho una collana, questa qua è di costinelli. Vediamo se si riesce a vedere. Un coriccino argentato, che po' carino. Poi ho questo vestitino, che è molto scollato, però va bene, ha le manichine così, belle larghine, corte. L'avevo preso e lo viette. È un po' rosatino, non lo voglio proprio spesso spesso, e qua c'è tipo il pizzo, solo davanti. Io porto vestitini, spesso, anche se sono un po' corti, non me ne frega niente. Poi ho, l'ho preso e lo viette, l'avevo detto, con quei saldi, quegli ultimi saldi, non questi quelli prima. Questa è una specie di cardigan, che fa di Various, normalissimo, nero, non c'è niente di che. Questa è la cintura, che ho preso da Bonprix, con la nera, carina, secondo me. I leggings sono di calcedonia, sono quelli grigi chiari. E gli stivali sono sempre quelli neri, alti, più con più bassi dietro. Non ho mille, paia di stivali, quindi li vedrete più o meno li stessi, cambia qui l'abbinamento sopra. E poi ho le perle. Queste qua sono perle vere, che mi sono regalata dopo un sacco che le volevo. Perché c'è un po' di colori d'orgorgie, quindi le orecchie mi porto, però faccio fatica. Cioè le devo portare tipo per qualche ora, se no poi mi vengono delle orecchie allucinanti. E quindi niente, questo è l'office. Com'è carino, semplice, logicamente sono andata la stonda a lavorare, quindi non è che posso qui fare chissà che cosa. E niente, vi mando un bacione. E alla prossima, ciao ciao.